Siamo a Serra dei Conti all'interno dell'azienda Compagnia del Denim di Alessandro Marchesi in occasione dell'osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente. L'ultimo appuntamento organizzato dalla Regione Marche, quest'oggi un tavolo tematico dedicato alla moda e alla cura della persona. Abbiamo creato una strategia di specializzazione intelligente, ricerca e innovazione che è il più possibile integrata rispetto a tutti i vari obiettivi che si vogliono raggiungere perché soltanto attraverso l'integrazione tra la ricerca, l'innovazione, la formazione che è di fondamentale importanza potremmo riuscire a garantire lo sviluppo economico dei nostri territori. Ed è per questo che stiamo andando su tutti i territori per ascoltare gli imprenditori, ma anche le università, i giovani ricercatori, le start-up innovative, gli incubatori, proprio per avere attraverso questo confronto con gli stakeholder le parti più importanti da mettere all'interno della nostra strategia, le politiche che vanno integrate tra loro per un buon funzionamento dell'ecosistema della nostra Regione. Per fare trasferimento tecnologico, per dare un contributo vero di innovazione alle imprese è necessario farlo cercando di capire quali sono le reali esigenze degli imprenditori e della produzione. Il modo migliore per capire queste esigenze è andare a parlarci, andare a conoscerle direttamente, entrare dentro i processi produttivi e cercare di capire quali di questi processi produttivi possono avere componenti di innovazione, possono avere evoluzione diciamo così tecnologica o dove si può imprimere trasferimento tecnologico formativo. Questo fatto è fondamentale, dobbiamo farlo sempre di più pensando che anche gli ultimi fondi che arriveranno dall'Europa e poi il recovery sono tutte risorse che diventano utili se davvero i bandi finanziano ciò che serve alle imprese. Molto spesso in passato i bandi erano un'occasione per l'imprenditore che doveva fare un progetto, tanta burocrazia, tanti certificati, poi alla fine il progetto era più che altro il modo per prendere un contributo ma non era utile al processo produttivo reale dell'azienda. Per noi è molto molto importante essere stati scelti dalle regioni Marche perché veramente ci avremmo tanto da raccontare su quello che facciamo ma specialmente per quanto amiamo le Marche e per quello che facciamo tutto nelle Marche. Quindi sembra strano ma a volte aziendine come le nostre, delle piccole e medie imprese, sono sempre all'ombra e invece ci abbiamo veramente tanto da raccontare secondo me. Siamo specializzati in denime principalmente però è tutto quello che poi del cotoniero va trattato, lavato, accessoriato, customizzato, quindi lì proprio il nostro core business. Chilometro zero perché qui avviene la prototipia, a 50 km c'è la lavanderia, ci sono i nostri laboratori, quindi veramente a chilometri zero. Made in Marche, assolutamente sì anche dell'autenticità proprio del nostro prodotto. Finalmente vediamo i politici e i tecnici che vanno sul territorio per rendersi conto di cosa c'è sul territorio, di quello che fanno le imprese e questo è veramente molto gratificante sia per le imprese ma va riconosciuto appunto questo metodo nuovo di lavorare e di confrontarsi con il territorio. Il settore della moda è sicuramente un settore che è stato pesantemente danneggiato dal fenomeno della pandemia, tuttavia possiamo dire che ci sono dei segnali veramente incoraggianti che ci fanno ben sperare per il futuro. Il mio bilancio è che lo faranno gli imprenditori il bilancio. Noi adesso ci mettiamo a lavorare dopo aver ascoltato tutte le cose che ci hanno detto e questo confronto credo che sia stato utile. Il bilancio vero lo faremo quando vedremo che quei soldi che investiremo genereranno un'impresa marchigiana più competitiva e più in grado di stare sui mercati e il risultato saranno i dati di produzione interna lorda, saranno i dati di esportazione della nostra regione ma soprattutto saranno i dati di assunzioni di posti di lavoro che eviteranno questa transumanza reale di tanti giovani che vanno via dalle Marche dopo la laurea. Dobbiamo fermare questo processo emigratorio dei giovani marchigiani.